Mi chiamo Noemi Aprile, ho 16 anni, il mio pony si chiama Geronimo van de Mispeller, abito a Milano e il mio istruttore si chiama Alessandro Riario Sforza. È la prima volta che vengo qua in Austria e mi sono trovata molto bene, penso che ci tornerò e sono felice perché abbiamo vinto.